ragazzi devo fare un record per video logo almeno di due minuti mi devono bere questi 8 cecchetti due ce ne ho bevuti perché ha detto se non li bevo entro due minuti non si può fare allora cosa devo fare? ebbè è che video troppo lungo capito? facciamolo in un tempo breve non morire 4, non mi ricordo come si dice in inglese 6, vabbè 5 ragazzi guardate com'è bella questa piramide ma quando stiamo? solo 45 secondi abbiamo tempo però solo per pepe voglio fare il record 8 9 la ultima si vola chi si fa? chi si fa? per voi videolocchiando, videolocchiti che seguite per te 2 sui, videolocchiti dai giù dopo questa videologa avrà tanti fan ah proprio chi mi ha fatto il video oggi? Emanuele, Lisa, Josephine, Renato, Tonia Pinto chi più ne metto? dimentichiamo qualcuno non credo allora erano Lisa, Emanuele, il grande amico mio, lo voglio bene ciao Josephine, Renato, Tonia, Tonia e poi un altro, i fratelli, i fratelli Caetano e Mario i fratelli e la bufala Caetano e Mario non mi ha potuto vedere bene che stavo con il cellulare, comunque grazie a tutti un saluto per la mia parte, mi ricordo che stai a casa stanno i bici stacati fratelli, il microfono papà yeah baggy